Le squadre avete diritto alla partecipazione alla Serie A2 2024-25 di Occhi su pista che dovranno confermare la loro presenza entro il 30 giugno sono nel girone A, il Breganza, il Modena, il Tienero, Scandiano, il Correggio, il Bassano, Montecchio, Precalcino, Seregno, Valdagno. Nel girone B la Matera, la Pumas, Viareggio, Rotellistica, Camaiore, Follonica, Prato, Castiglione, Occhi, Forte dei Marmi, Salerno e la neopromossa Viareggio, Occhi, SPV. Anche la Serie B ha i suoi due ultimi verdetti, le due promosse in Serie A2 sono Valdagno e SPV Viareggio. Il Valdagno ha dominato la Final A vincendo tutte le gare. La Final Four B si è svolta a Forte dei Marmi, è stata vinta dai padroni di casa di Roger Molina, ma avendo già una squadra in A2, è stata promossa all'SPV Viareggio che è arrivata a seconda. Una formazione giovane che prenderà il posto del CGC promosso in A1, così la Versilia continuerà ad essere protagonista in A2 anche per la prossima stagione, come lo ha fatto bene questa che si è conclusa in questo fine settimana.